Intornati dopo la Paizo estiva e ci ritroviamo con una nuova recensione grazie a Paizo, continua la collaborazione con loro dove ci hanno dato questo manuale che è appena uscito il 4 agosto, Regio Elements, che è molto ricco e pieno di cose interessanti. Andremo a dare un'occhiata molto veloce di tutti i suoi contenuti perché non c'è solo il Cineta ma c'è anche molto altro di interessante e con questo mi ripicelisco e andiamo a iniziare. Andiamo subito a dare un occhio alla tabella dei contenuti, al nostro indice. Ovviamente questo è quello appena uscito in inglese, sulla parte italiana bisogna ancora capire quando uscirà, capendo Giochi Uniti, come lo andrà a inserire nelle varie sue pubblicazioni. Dal mio punto di vista quello che consiglio è siccome è molto importante e interessante anche perché è il primo manuale compatibile con tutta la parte di Remaster che uscirà a novembre, quindi hanno anticipato alcune cose. Se volete andare a vedere il video in preview cosa ci sarà di nuovo è qui sopra e questo un po' andrà a dare quelle che sono le indicazioni per tutte le cose che avete visto nel video di preview. Attualmente lo trovate per circa 20 dollari per la parte pdf all'interno del sito paeso.com, quasi 55 come cartaceo. Come vedete inizia con l'introduzione, perché l'introduzione? Perché effettivamente paeso cosa ha fatto? Ha aggiunto due nuovi elementi che sono il metallo e il legno e quindi deve andare un po' a spiegare come mai questi elementi saltano fuori adesso. E quindi c'è tutta un'introduzione per capire i vari elementi, i piani elementali, c'è stata una sorta di guerra, come vanno a essere nascosti dai fratelli più evidenti, quindi terra, acqua, fuoco e aria. Dopo si va a vedere tutta la parte elementali, quindi l'estensione di quelli che sono i personaggi con la classe del cineta, gli nuovi impulsi che sono una sorta di magia ma senza slot di incantesimi, quindi attaccati molto ai vari tenenti. Gli alleati, quindi famigli, in questo caso e idon, per esempio che può utilizzare l'evocatore. Diversi background sia comuni, uncommon e rari. Due nuove lignaggi, uno ovviamente per il metallo e l'altro per il legno. Una nuova sottocasse del barbaro che è l'istinto elementale. Tutta la parte di cambiamenti, di spell, aggiungendo ovviamente quelli sia elementali che legno con i nuovi tratti e aggiungendo altri, poi anche quello andremo a vederlo. Tutta la parte di archetipi, quindi con l'aggiunta del cineta, ma anche un aggiornamento di quello che è l'elementalista che è stato introdotto all'interno di Secret of Magic. Qui andrà ad estendolo, quindi vedetela non come una sorta di errata ma un qualcosa di aggiuntivo. Insomma anche questo è molto interessante da andare a vedere e capire effettivamente l'efficacia perché ho visto alcuni spell e talenti che possono dire la loro anche dal punto di vista di danno. Poi si andrà per ogni singolo elemento, come vedete, aria, terra, fuoco, metallo, acqua e legno. Sono tutti gestiti allo stesso modo, quindi si dà una prima introduzione dell'elemento e del suo piano elementale. Si vanno a descrivere quelli che sono i lord, quindi chi è a capo di questo regno elementale, tutta una serie di spell aggiuntivi, di item. Anche questo è molto interessante perché vanno a estendere gli oggetti magici che possono essere utilizzati dei vari elementi. E poi anche un'aggiunta di ulteriori creature. E alla fine andremo a vedere con Ciorna Felements il mix di questi elementi, sia dal punto di vista di item che di spell e anche di creature, cosa ci può dare di più questo libro. Sulla destra vedete quello che già vi accennavo prima. In generale qui ci sono tutte le regole aggiornate che saranno all'interno di quello che sarà il player core, il gem core e il monster core. Quindi qua vi dà un breve accenno di quelle che sono le modifiche, per intenderci che è stato rimosso l'allineamento e il renaming, ovviamente per stare al di fuori delle OGL, di alcune nomenclature. E con questo termino il video, vi aspetto in quelli più particolari, proprio per andare a sfogliare il nostro PDF e per darvi ulteriori informazioni. Ciao e alla prossima!